Ritmi d'Italia nell'Inter ancora insieme, c'è scritto là sopra, fino al 2026, che cosa significa per te questo rinnovo? Sono felicissimo, Inter mi ha dato tanto in questi anni e mezzo, spero di dare di più per le prossime due anni e mezzo, sono felicissimo e spero di vincere tanti trofei con questa bella società e squadra. Sei arrivato in silenzio ma sei diventato fondamentale per questo gruppo, quanto sei orgoglioso di farne parte? Sono molto orgoglioso perché sto facendo una parte di una squadra, una storia e anche un bel gruppo, abbiamo un gruppo veramente bellissimo che stiamo facendo tutto per raggiungere i nostri obiettivi e ovviamente faremo il meglio possibile di vincere trofei. Hai giocato in grandi club e hai tanta esperienza ma qui all'Inter sei migliorato ulteriormente come giocatore, quanto sei cresciuto in questi anni? Sto ancora crescendo, non mi sono fermato e non mi fermerò, voglio crescere ogni giorno, ogni minuto perché la cosa più bella è di imparare ogni giorno, è quello che sto facendo, dai miei compagni giocando, allenandomi con loro e migliorando ogni giorno. A proposito di non fermarsi mai, in campo sembri instancabile, esempio di dedizione e sacrificio, qual è il tuo segreto? Lavorare ogni giorno perché so che mi rimane poco alla fine della mia carriera calcistica, per quello voglio fare il massimo sul campo, aiutare i miei compagni, la mia squadra, vincere partite, per quello sto facendo più di 100%, ogni tanto riesco a fare, ogni tanto no, però sempre sto facendo il massimo. Qual è il momento più bello che hai vissuto con l'Inter e quanta voglia c'è di raggiungere nuovi traguardi? Ho vissuto belli momenti in questi un anno e mezzo, però vorrei sentire momenti più belli nelle prossime anni, nelle prossime mesi, per quello ho grandi obiettivi con questa squadra, con questo club, e per quello non voglio parlare in avanti, però speriamo che parleremo dopo. Sei amatissimo dai tifosi nerazzurri, che cosa significa per te tutto questo affetto? Significa tanto, significa che ci dai qualcosa per questa squadra, che stai lavorando bene, però non voglio fermarmi dove sono arrivato, voglio andare più avanti e fare più orgogliosi i tifosi nerazzurri, interisti. Grazie Enrico. Grazie Emilia. Grazie. Grazie a tutti.